amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi facciamo un aggiornamento perché abbiamo iniziato i lavori su questa mini r58 quindi una mini coupé che abbiamo visto in un precedente filmato quando proprio il cliente ce l'aveva appena consegnata quindi stiamo già lavorando per sistemare determinate cose via via che andiamo in progress con i lavori vi facciamo vedere il punto della situazione quindi i materiali almeno una parte dei materiali sono arrivati il concetto principale del cliente era rimettere la macchina il più possibile originale questa macchina è stata acquistata è stata fatta una determinata elaborazione anche qua sono stati fatti alcuni errori grossolani purtroppo la macchina in generale era tenuta bene però va sistemata per alcune per alcune parti diciamo che l'errore più grosso per fortuna non ce ne sono altri di così evidenti è il solito discorso che io dico tutte le volte è arrivata con la spia motore accesa per il semplice fatto che hanno messo il tubo turbina o downpipe che poi è questo togliendo il catalizzatore questa è la flangia che si attacca alla turbina e da qua si attacca la parte sul centrale questo è un errore che noi sconsigliamo assolutamente di fare perché ovviamente si va a decomprimere completamente la linea di scarico sì la macchina guadagna un pochino più di potenza ma alla fine si accende la spia motore la macchina va in recovery è difficile spegnerla da un punto di vista elettronico morale della favola assolutamente un lavoro che noi sconsigliamo la cosa più logica è quella di sostituire il tubo dritto con un downpipe in questo caso abbiamo messo comunque un catalizzatore neanche a 200 celle a 300 celle quindi diciamo un pochino meno denso dell'originale perché comunque sono stati fatti dei lavori a livello motore non potevamo mettere un catalizzatore completamente originale in questo modo attaccando le due sonde di pressione non avremo più l'accensione della spia quindi questo è l'aspetto principale cioè spegnere la spia motore dopodiché la restante parte della linea di scarico abbiamo sistemato il terminale che comunque un terminale originale con delle staffe che si erano rotte quindi la linea di scarico una volta montato questo è a posto già che ci siamo avendo tolto il downpipe ci siamo accorti che su questa parte qua questa parte qua anteriore c'è una perita d'olio si vede ben chiaramente quindi qui dove c'è un radiatore piccolino con una guarnizione che il cui errore è un errore diciamo tecnico nel senso che questo radiatore è stato montato vicinissimo al catalizzatore il catalizzatore è un componente che arriva dalle temperature veramente elevata può arrivare anche a 7-800 gradi ovviamente qualunque cose lì attorno se c'è qualche cosa di gomma ovviamente si 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 deteriora qua si vedono tutte le varie gocce quindi tireremo giù il radiatore cambieremo la guarnizione e sistemiamo anche questo tipo di piccolo problema poi da un punto di vista diciamo di lavori diciamo di routine dobbiamo sistemare tutta la parte frenante quindi abbiamo ordinato come abbiamo fatto vedere la volta precedente dischi ebc che sono questi che sono dischi sportivi visto che la macchina comunque ha un motore john cooper works quindi è un motore sicuramente performante il solito discorso dei dischi puntati e baffati sui quali andremo abbinare sempre pastiglie ebc mescola gialla ok dopodiché stiamo aspettando gli ammortizzatori della bilsten come gli ammortizzatori di questa macchina erano comunque da sostituire togliamo anche le molle sportive il cliente ci ha portato le molle originali quindi andremo ad abbinare degli ammortizzatori b stem b6 che sono quelli che hanno lo stelo alto tanto quanto l'ammortizzatore di serie perché qua era stato fatto un accrocchio con ammortizzatori originali che ormai sono scoppiati con molle neanche della e back molle molto basse che andremo a togliere quindi ripristineremo l'altezza normale quando ci arriveranno questi benedetti ammortizzatori dopodiché all'interno abbiamo fatto vedere la macchina è a posto ha dei sedili sportivi abbastanza scomodi questi sono i suoi sedili originali quindi quando finiamo la parte sotto andremo poi a togliere i sedili sportivi ripristinando i sedili originali e l'ultimo passaggio è quella appunto della carrozzeria che vi avevamo fatto vedere sul video precedente andremo a riprendere alcune parti la macchina comunque è decisamente in buono stato c'è un paio di di segni un gibollo sul sul sulla parte posteriore alcune parti qua davanti dove è saltato il trasparente però diciamo che in linea generale il lavoro di carrozzeria sarà abbastanza semplice volevo fare un appunto rispetto al video precedente dove ho descritto questa macchina un po velocemente di corsa ho fatto un errore perché l'ho paragonata a livello diciamo di motore alla mini gp la mini gp è un compressore volumetrico questo invece è un motore di derivazione psa quindi con una turbina gestita elettronicamente quindi sempre john cooper works do quanto però sono due motori completamente diversi purtroppo questo ha la nomea di essere un motore molto delicato fa parte di quei di quel novero di vetture sulle quali bisogna stare molto attenti anche non esagerare con le preparazioni perché sono motori molto delicati dove le rotture meccaniche anche con macchine stock sono molto molto frequenti noi abbiamo una lista nera diciamo così di vetture da tenere veramente in d'occhio e sulle quali siamo molto attenti a fare se dobbiamo fare dei ritocchi prestazionali a farli ma in maniera molto molto delicata senza arrivare a degli estremi perché già si rompono da sole figuriamoci a estremezzare certe cose io direi che anche per questa mini per questa upgrade è tutto ci riaggiorniamo magari quando arriveranno gli ammortizzatori o quando la macchina sarà finita per vederla nel suo insieme prima di riconsegnare al cliente quindi anche per oggi è tutto vi invitiamo come al solito a consultare il sito www.9000giri.it mi potete chiamare in ufficio quando volete 0273 83175 io sono sempre lì anche per i consigli per delle valutazioni per qualunque tipo di domanda sono sempre lì ricevo decine di telefonate ogni giorno quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella soprattutto iscrivervi al canale per darci una mano e rimanere sempre rimanere darci una mano per far crescere il canale e soprattutto per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao ciao